Sono Marco Mantovani, presidente di Lockman S.p.A., che produce orologi, gioielli e accessori in moda per vari settori, pelletteria, occhiari. Io ho sempre sognato di fare la guardia forestale, perché è la mia grande passione alla natura e ho sempre avuto questa grande inclinazione. I miei studi sono stati gli studi classici, ho fatto il liceo, ho fatto l'università di legge a Milano. Dopo poco tempo ho iniziato a lavorare con mio padre, facendo il facchino, perché mio padre faceva rappresentante di pellami. Ho imparato tantissimo da mio padre nell'atteggiamento del servizio, della vendita. Viaggiavo da solo in macchina con monti di pacchi di pellami da distribuire ai vari pellettieri o calzaturieri. Ho avuto una specie di piccolo rifiuto nel lavorare con mio padre. Ho iniziato a fare strani eremitaggi nei monti, sia dell'Elba che di vari posti, nelle Alpi. Lavorai per la forestale, che era un mio vecchio sogno. Ho terminato il mio periodo di cosiddetto eremitaggio, di riflessione nei monti, nella natura. Sono tornato con l'idea abbastanza chiare e volevo fare una cosa per conto mio. Rischiando, decisi di usare l'esperienza che avevo fatto lavorando con mio padre, che vendeva pellami, utilizzando quei pellami e disegnando degli articoli di pelletteria e di accessoristica che avevo pensato durante questo periodo. Tra questi accessori che avevamo pensato c'era anche un cinturino in pelle molto particolare, coinvolse un amico su questo progetto. Cognomi dei due fondatori, Locci e Mantovani, decidemmo di fare la Lockman e dopo, ai tempi era Lockman Design, perché era più una società di disegno che di produzione. Questa linea di cinturini però era molto nuova, molto innovativa e decidemmo di andare a mostrarla a una fiera. Prendemmo l'auto, andiamo a Basilea con tutti i nostri risparmi investiti in questo viaggio, entrammo a Basilea con la nostra valigetta con dentro i cinturini e in questa bellissima fiera iniziamo a bussare agli stand. Non lo sapevamo, non si poteva, se non si era espositori, mostrare della merce all'interno della fiera e venimmo letteralmente presi per l'orecchio e sbattuti fuori dalla fiera dagli inservienti. Soltanto che la fiera è grande, ha più ingressi e decidemmo di metterci i cinturini in tasca e di passare da un altro ingresso e così ricominciamo a fare quello che facevamo ma in modo molto meno plateale. Devo dire che incontrammo un paio di clienti molto interessati, fissiamo degli appuntamenti e questa cosa ebbe in realtà molto successo. Dopo qualche anno una grossa azienda del settore ci chiese addirittura di entrare in società perché lavoravamo con loro molto intensamente. Abbiamo fatto vedere un progetto di un orologio che avremmo voluto chiamare con il nostro nome, loro ci credettero e così uscì il primo orologio Lockman che era un orologio che aveva delle parti molto artigianali in radica. La radica è un materiale tipico dell'isola d'Elba, questa cosa di poter fare un orologio legato al territorio che tra l'altro chiamammo con i nomi delle isole dell'arcipelago, quindi isola d'Elba eccetera, era una cosa che mi appassionava e in cui credevo e credevo anche che in effetti un'azienda che facesse orologio all'isola d'Elba potesse restare comunque curiosità e fosse estremamente diversa da una società di Ginevra piuttosto che di Berna, di Basileamo o anche di Milano. La nostra è un'azienda che contiene tantissimi brevetti, studia e investe moltissimo su nuovi materiali, tecnologia, abbiamo fondato delle società apposta per la ricerca come materie future, SIO che è scuola italiana di orologeria, ma alla fine tutto quello che di positivo abbiamo fatto l'abbiamo fatto con le persone, con sentimenti di amicizia, di affinità, di reciproco rispetto e quello che vince è la squadra. La nostra in fondo è una storia di amicizia, tra me e il mio socio e poi con tutti i nostri collaboratori che ha portato a un successo, ma la società è iniziata veramente ad andare per il verso giusto quando ho conosciuto mia moglie perché da quel momento le cose sono magicamente andate benissimo. L'innovazione è ispirazione perché oggi c'è tutto sul mercato, materiali come titanio, carbonio, siamo stati i primi a usarli, a brevettarli nell'orlogeria per i loro usi, quindi l'aspetto creativo, l'aspetto dell'ispirazione e dell'innovazione è fondamentale. Noi vendiamo anche prodotti che devono evocare emozioni e quindi se non c'è qualcosa di nuovo l'emozione piano piano si spegne. Innanzitutto io credo moltissimo nei giovani, li sento migliori di noi, diversi da noi, migliori di noi. La nostra è un'azienda molto giovane come età media, direi che non supera i 32 anni la media. Un'azienda deve avere un equilibrio con un mix di persone più esperte e saper gestire le energie di persone giovani che portano sempre qualcosa di buono e di nuovo. Tutti i giovani devono essere veramente se stessi se vogliono fare gli imprenditori perché l'imprenditore deve sempre trasmettere fiducia, deve avere lui stesso fiducia a trasmettere fiducia ed è impossibile sentire fiducia verso qualcuno che non è se stesso, che non crede in quello che è e che fa. Spontaneità, sincerità, onestà, grande voglia di impegnarsi e di mantenere quello che si promette.